Benvenuti a Longevity Now, Longevity Now EFL, sono Luigi Fontana, professore e direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic and Longevity Center dell'Università di Sydney. Oggi vi voglio illustrare i risultati di questo paper che abbiamo appena pubblicato su Nutrition and Healthy Aging. Dunque, riassumiamo telegraficamente i risultati. Queste sono un'analisi secondaria di uno studio randomizzato di due anni di restrizione calorica in persone giovani tra i 20 e i 50 anni con un BMI tra 22 e 28. Quindi persone leggermente sovrappeso che durante questo intervento di restrizione calorica non solo hanno perso all'incirca 8 kg, ma hanno avuto un miglioramento importantissimo di tutti i fattori di rischio cardiometabolici, infiammatori, ormonali e di altri fattori che sappiamo regolare i processi di invecchiamento, rallentare i processi di invecchiamento. Allora, in questa nuova pubblicazione quello che abbiamo provato a fare per scavare di più dentro i dati è quello di fare una comparazione tra diverse misurazioni della adiposità, cioè misurazioni antropometriche come il peso corporeo, l'indice di massa corporeo, la circonferenza vita. Poi, grazie alla DEXA, che è una metodica precisa per misurare la composizione corporea, abbiamo anche misurato la massa grassa e la massa magra. E infine abbiamo misurato due marcatori di metabolismo energetico, la leptina, che è un ormone prodotto dal testo adiposo in proporzione alla quantità di massa grassa presente nel corpo. Sappiamo da diversi studi, compreso questo, che se una persona perde peso, la leptina si abbassa, se una persona guadagna peso, la leptina si alza. E poi, in questo studio ho avuto la fortuna di poter misurare la spesa energetica all'introito calorico con una metodica molto costosa, che è l'acqua doppia marcata e che quindi è un misuratore preciso di quante calorie consumiamo, ok? Quindi abbiamo fatto una comparazione di tutti questi parametri chiedendoci qual è il migliore, cioè rispetto al peso corporeo, misurare la circonferenza vita o addirittura andare in un laboratorio specializzato e misurare la massa grassa o la massa magra o nel sangue e misurare la leptina, aggiunge più informazione on top, al di là di quello che fornisce il peso corporeo, sì o no? Questa è la prima domanda a cui vi darò una risposta fra un secondo. L'altra domanda che abbiamo chiesto è ma esiste veramente un cut off, un certo livello di perdita di peso a cui praticamente, nel momento in cui a quel punto li vediamo un miglioramento dei marcatori cardiometabolici e infiammatori. Si dice, in base a studi epidemiologici, che una persona deve perdere almeno il 5% del peso corporeo per vedere un miglioramento dei fattori cardiometabolici. E' vero o non è vero, soprattutto in questa popolazione di persone giovani e leggermente in sovrappeso, non quindi fraccamente obesi. E quindi praticamente adesso, in maniera telegrafica, vi do la risposta a questi due interrogativi che c'eravamo posti a priori e poi con più calma vi faccio vedere alcune tabelle figure per i tecnici del settore per illustrare in profondità i risultati. Allora, quello che abbiamo visto è che tra tutte queste misure che vi ho appena descritto, il peso corporeo è il marcatore, l'indicatore più fortemente correlato a tutti i fattori cardiometabolici, infiammatori, ormonali che sono stati modificati dalla restrizione calorica. E quindi questo studio ci dice che la circonferenza vita o la massa grassa misurata con la dexa o la leptina o l'intrato calorico con l'acqua doppia mercata non sono superiori al peso corporeo. E fra un secondo vi dico perché questo è importantissimo dal punto di vista clinico. E l'altra importante osservazione che abbiamo fatto, scoperta, è che non c'è un cut-off specifico in cui, dopo il quale il peso si associa a un miglioramento. È un, come vi farò vedere, una figura successiva, è lineare. Usando una metodica statistica che si chiama spline analysis, appunto abbiamo visto che c'è una correlazione lineare tra perdita di peso e fondamentalmente il miglioramento di questi marcatori metabolici, infiammatori e ormonali. L'altra osservazione interessante che abbiamo fatto, e questa anche dal punto di vista clinico è importantissimo, udite udite, è che... specialmente per il T3, il T3 è un ormone tiroideo. Voi sapete che la tiroide produce due ormoni, il T4 e il T3, il T3 è quello più attivo, che regolano il metabolismo, il metabolismo basale. Regolano la temperatura, corporea, lo stesso di attivo, tante altre cose. Ma sicuramente la cosa che fortemente il T3 regola è il metabolismo basale. Le persone che hanno dei bassi livelli di T3 sono persone che tendono a ingrassare l'ipotiroidismo, invece le persone ipertiroidee, che hanno alti livelli di ormoni tiroidei, dimagriscono, sudano, hanno un metabolismo molto accelerato, la temperatura e anche la frequenza cardiaca sono elevate. Noi sapevamo già che la restrizione calorica, l'avevamo già dimostrato che la restrizione calorica in persone francamente sovrappese, obese, riduceva il T3. Qui, in questo studio in particolare, abbiamo visto che in persone giovani e leggermente in sovrappeso anche piccolissime riduzioni del peso si associano a una significativa riduzione dei livelli di T3 circolanti e soprattutto che anche queste piccole riduzioni del T3 si associano a un rischio di recuperare peso in una fase successiva. Quindi si abbassa il T3, si abbassa il metabolismo basale e fondamentalmente le persone hanno una propensità a riprendere il peso che avevano perso. E perché è importante questo? Perché come abbiamo dimostrato in passato e ho fatto dei video su questo argomento che voi potete vedere sul mio canale YouTube, è per questo preciso motivo che è assolutamente necessario sempre prescrivere un programma di attività fisica sia aerobica che di resistenza quando vogliamo perdere peso o quando, se siamo dei medici o dei nutrizionisti o degli health professionals, quando prescriviamo un intervento di perdita di peso alla dieta va sempre, sempre associato un serio regolare programma di attività fisica aerobica e di resistenza perché abbiamo dimostrato che il T3 non si abbassa. Cioè se facciamo perdere peso le persone con l'attività fisica il T3 non si abbassa e quindi non si abbassa il metabolismo. Infine, praticamente la chicca di questo paper è che quello che abbiamo visto è che se io sono un clinico e voglio monitorare se il mio paziente sta migliorando dal punto di vista metabolico infiammatorio l'unico parametro o meno il parametro più semplice più importante più stringente che devo seguire è il peso corporeo. Una volta che ho fatto la mia al baseline all'inizio della prima visita ho fatto il mio inquadramento misurando tutto quello che posso misurare la circonferenza vita il peso la pressione vari marcatori metabolici se lavorate come lavoro io in un centro specialistico possono fare misurazioni della composizione corporea massa grassa massa ossea massa magra localizzata a livello addominale potete fare misurare la bio2max la forza la funzione endoteliale la stiffness delle arterie la stiffness del ventricolo sinistro la heart variability e tanti altri parametri però anche in un ambulatorio il messaggio è fondamentalmente che una volta fatto la prima visita e avendo stabilito quali sono i parametri dopodiché si fa una prescrizione di un intervento dietetico e di attività fisica a quel punto se noi monitoriamo il peso questo è sufficiente per seguire l'evoluzione metabolica infiammatoria del nostro paziente il che significa che se il nostro paziente o la nostra paziente perde peso sta migliorando in maniera lineare tutti questi fattori cardiometabolici se riprende il peso sta peggiorando i fattori metabolici e infiammatori quindi è un concetto molto molto importante ed è importante anche per la persona che perde peso al di là del medico che prescrive voi potete monitorare la vostra salute metabolica fondamentalmente controllando il vostro peso perché nella stragrande maggioranza dei casi la riduzione del peso corporeo si associa a una riduzione della circonferenza vita della massa grassa e via dicendo è chiaro che l'attività fisica a differenza della restrizione calorica pura riserva la massa magra e fa perdere principalmente massa grassa quindi poi nel disegnare un intervento specifico e personalizzato lo specialista deve sapere cosa misurare come misurarlo quando misurarlo e quali sono in ordine di importanza i vari indicatori più importanti quindi questo in soldoni è il risultato sono i risultati di questo studio adesso per i tecnici velocemente vi faccio vedere alcune tabelle molto velocemente poi se avete voglia il paper è gratuito andate su Pammede lo trovate ve lo giuste con calma vedete praticamente che nella tabella 1 abbiamo diviso lo studio nel primo anno e nel secondo anno qua ci sono tutti i parametri antropometrici di composizione corborea e di metabolismo energetico vedete che sono tutti ridotti in maniera significativa soprattutto nel primo anno e anche tutti i fattori cardiometabolici infiammatori ormonali che abbiamo misurato vedete che sono tutti migliorati in maniera molto molto significativa con l'eccezione dell'aria sotto la curva per il glucosio perché queste persone erano già glucotolerante e quindi non hanno avuto un ulteriore miglioramento e per il cortisolo al primo anno al secondo anno invece c'è un aumento significativo l'abbiamo già pubblicato del cortisolo che è un fattore principe insieme all'IGFBP1 nel mediare longevità negli animali a restrizione calorica e anche nell'uomo nella poi vediamo nella tabella 2 invece appunto abbiamo fatto questa correlazione vedete questa par ways correlation matrix tra tutte le indicatori di adiposità e i marcatori metabolici e vedete a colpo d'occhio che il peso corporeo non è inferiore a nessuno di tutti gli altri parametri addirittura per la leptina e e la spesa energetica l'introito calorico con l'acqua dove è marcata questi sono scarsamente correlati con molti di questi parametri metabolici infiammatori quindi ripeto il peso è ugualmente predittivo ha la stessa potenza di predizione della circonferenza vita della massa grassa con la vexa poi appunto chi vuole si va a vedere i dati nel dettaglio e velocemente voglio farvi vedere la figura 1 vedete questa spline regression overlays of spline five knots analysis chiaramente a colpo d'occhio vedete che per tutti i parametri trigliceridi LDL e tanti altri marcatori c'è una correlazione lineare man mano che si riduce il peso la circonferenza vita vedete che non c'è un cut off un threshold e però poi quando abbiamo diviso in terzili cioè praticamente le persone che hanno perso meno di 5 kg tra 5 e 10 kg e più di 10 kg questa è un'altra maniera di analizzare i dati che è diversa dalla spline analysis vediamo che in effetti chi perde meno di 5 kg non ha un chiaro nel gruppo non c'è una chiara miglioramento fatta eccezione per il T3 che è ridotto anche con una piccola parede di peso e il TNF che è una citochina proinfiammatoria naturalmente le persone che hanno perso più del 10% del peso corporeo significa che se prima erano 100 kg se sono 90 kg questi invece hanno avuto un drastico miglioramento di tutti i fattori cardiometabolici infiammatori ormonali che abbiamo misurato bene spero che questi questi dati siano utili a voi cari amici che possano essere fonte di ispirazione per modificare il vostro stile di vita ricordatevi che la salute è il bene più prezioso che abbiamo e va coltivata bisogna dobbiamo educarci dobbiamo capire i meccanismi dobbiamo applicare una conoscenza specifica pragmatica in maniera da poter disegnare il migliore stile di vita che ci permette di mantenerci sani giovani forti e capaci di godere la vita e con questo come sempre vi saluto e ci vediamo presto alla prossima grazie a tutti